Ciao a tutti, sono qui fuori al balcone di casa mia perché in pratica volevo chiedervi se nel caso vi potrebbe interessare un video sul mio workout quotidiano poiché come sapete, chi mi segue, per chi non mi segue, io parto edito 5 mesi fa ho già girato un video in cui do dei consigli su come tornare in forma dopo il parto e sono dei consigli generali invece con questo video che voglio girare voglio farvi vedere quello che faccio per stare in forma fisicamente a livello proprio di sport ovviamente io non sono né una personal trainer né una bodybuilder esperta niente di tutto ciò quindi quello che faccio è semplicemente un modo per condividere come io mi tengo in forma quotidianamente però non voglio insegnare niente a nessuno non sono brava comunque nel fare gli esercizi non voglio assolutamente dirvi come farli però è giusto per condividere con voi quello che faccio in realtà io faccio tutto in casa perché sapete che ho un bimbo piccolo quindi non ho tempo né in modo di andare in palestra quindi mi organizzo da sola con pesetti e con tappetino mi metto il cartello ginnastica, tenuta sportiva e faccio questi esercizi cerco di essere costante vorrei farli tutti i giorni però non sempre ci riesco perché non sempre sono a casa e non sempre in casa riesco ad avere il tempo perché vivendo da sola diciamo quasi sempre, stando quasi sempre da sola devo fare i servizi e le faccende quindi il mio obiettivo è farli tutti i giorni tranne la domenica la domenica è il giorno di riproposto però a volte non riesco a farli quindi diciamo sulle 5 volte a settimana faccio questo workout molto breve, molto semplice giusto per tonificare perché in realtà io non ho preso molti chili in gravidanza ne ho presi 8 dopo una settimana comunque bene o male li ho smaltiti perché con il parto era rimasta un po' di pancia gonfia giusto una settimana perché poi si è sgonfiata però i tessuti come ho già detto anche in quel video erano piuttosto molli, flaccidi non proprio flaccidi però avevo perso un po' di tono muscolare invece con questo workout devo dire la verità mi sono tonificata tanto mi sta servendo molto proprio anche per tenermi in forma e sentirmi proprio più energica perché lo sappiamo con un bambino così piccolo e una casa da mandare avanti ci vuole tanta energia e tanta forza quindi è meglio fare dell'esercizio fisico fa molto bene insomma e niente se vi può interessare quindi scrivetemi nei commenti qui sotto se vi può interessare un video sul mio workout in cui vi farò vedere tutti gli esercizi che faccio corpo libero insomma perché sono tutti esercizi anaerobici e poi mettete un like a questo video se vi è piaciuto un bacio a tutti ciao